Pronti a fare un giro per Los Angeles? Vi porterò un po' in giro per la California mettendo a dura prova le FSD 12.5 di Tesla su Model 3 Performance. E per finire un bel test drive sul Cybertruck. Non perdetevi i prossimi episodi! Ragazzi bentornati in un nuovo video come avrete già letto sul titolo del video sto guidando autonomamente con le mie mani. Ebbene sì, Tesla mi ha bannato dal programma FSD. Mi sono praticamente autopurgato da solo perché erano giorni dicevo ma chissà dopo quanti avvertimenti chissà dopo quanti avvertimenti chissà dopo quanti avvertimenti diciamo che dopo se non erro al quinto avvertimento quinto avvertimento di ieri totalmente ingiusto adesso dovete credermi sulla parola però totalmente ingiusto sono stato bannato per richiamo a stare attento diciamo alla strada ma praticamente ero incolonnato sull'autostrada fermi totalmente fermi e stavo fermo quindi proprio a zero cioè proprio i chilometri stavano a zero contachilometri stavo a zero e stavo con il telefono con la testa abbassata e quindi si vede penso che la telecamera qui interna abbia rilevato questa mia distrazione e ha iniziato probabilmente inizia a suonare tutto e mi è uscito un logo con il volante rosso è iniziato a suonare a manetta tutti i alert così guardate lì uaimo il taxi autonomo che va in giro per tutta los angeles senza nessun conducente dicevo è il volante iniziato ha iniziato a cioè a lampeggiare sullo schermo sembrava come se avessi investito qualcuno e lì per lì ho detto vabbè pensavo fosse il solito alert come le altre volte che diceva mi aveva scritto mi erano mi erano apparsi gli alert e diceva fino fino alla fine di questa guida tu non utilizzerai più le fsd che ragazzi a volte devo dire giustissimo però me ne è capitato anche un altro che stavo stavo guidando strada tutta quanta libera e stavo girato con la testa a guardare il paesaggio c'è robe tipo del genere e niente non non fa sconti è proprio fiscalissimo come diciamo anche giusto che sia io non è mi sto lamentando però quello di ieri l'ultimo diciamo guardate io credo che siano cinque e su cinque due totalmente un po' così dai diciamo così specialmente l'ultimo proprio tre ma infatti ho detto vabbè e invece vabbè ho parcheggiato la macchina e mi è apparso quando l'ho spenta mi è apparso l'allarme che diceva che ero stato escluso quindi bannato non giù bannato in america mi dispiace buttato fuori a calci nel sedere dal programma e apparsi un programma ovviamente a tempo che avrei ripreso la guida autonoma fsd 12.5.1 il 15 agosto io il 15 agosto sarà ancora qui in america ma non avrò più questo mezzo piccolo spoiler e quindi niente dai adesso diciamo che proprio l'ultimo oggi è l'ultimo giorno che ho questo mezzo con me e niente mi godrò la performance in maniera manuale come si fa dalle nostre parti con le nostre accelerazioni in curva mamma mia ragazzi che roba e ce la facciamo andare bene così fortunatamente diciamo che tutti gli spostamenti che avevo previsto di dover fare con la fsd sono andati tutti a buon fine quindi comunque ho avuto modo di testarlo in più più e volte vedere quali sono i suoi pro i suoi contro devo dire sincero che per l'utilizzo che ne stavo facendo qui in vacanza mi sono trovato benissimo poi vabbè ovviamente ha i suoi contro anche però penso di farci un video dedicato niente adesso ci facciamo quest'ultimo giorno così diciamo è stato bello finché è durato come una storia d'amore finita però tragicamente all'improvviso ripeto secondo me e allora ci sta il fatto che comunque sia fiscale tutto quanto ma io penso se se avessi pagato i 7 mila e passa dollari farmelo bannare così per diciamo per niente un conto se ti metti a fare il deficiente mentre guidi e ok ma cioè non puoi bannare una persona per degli alert ora anche l'altro gioco perché poi sono la maggior parte degli alert che ho preso sono sei tutti quanti durante ovviamente il viaggio che sono andato a san diego che è stato quello più lungo ma tutti quanti per cioè pezzi di autostrada che stavo totalmente da solo quindi non c'era nessuno davanti è normale che diciamo non è che stai tipo robot con le mani fermo cioè loro penso che si immaginano che tu stai fermo così con le mani con la testa bloccata in avanti che guardi senza mai girarti senza mai cioè un po' più anche di elasticità forse forse a me un alert vabbè quello l'ultimo vabbè col telefono ingiustificatissimo cioè stavamo fermi cioè la macchina non era in moto cioè stavamo fermi nel traffico e vabbè e un altro e poi gli altri vabbè non me li ricordo un altro me lo ricordo benissimo che stava in autostrada e non c'era nessuno davanti stava andando a 90 all'ora limite consentito e stavo un attimo girato così a guardare non mi ricordo vuoi direte giustamente sì mentre stai guidando non è che ti puoi girare sì ma non è che sono stato girato sette minuti così a guardare una cosa stavo girato un attimo a vedere così a vedere il paesaggio così però vabbè basta momento piangina diciamo dobbiamo rispettare le decisioni di Tesla sono stato cacciato a malo modo all'improvviso però diciamo che alla fine dai me lo sono goduto fino in fondo anche perché oggi vabbè l'ultimo giorno che utilizzerò quest'auto quindi niente diciamo il suo l'ha fatto e anche molto bene addirittura ha eliminato anche che non so che c'entra vabbè ha eliminato anche la modalità autopark cioè praticamente proprio bannato basta devi guidare tu non ti azzardare mai più a utilizzare dei dispositivi Tesla automatici adesso per punizione farai parcheggi da solo così fai vedere a tutti che li sai fare anche senza autopark noi senza problemi continueremo a parcheggiare come ho fatto per tutta la mia vita da soli comunque vabbè scherzi a parte ragazzi ci vediamo ci vediamo in un prossimo video adesso sto facendo un ultimo un ultimo giretto verso un piccolo spot che ho individuato per fare qualche foto fa un caldo di Cristo e oggi mi sono visto la partita e la finale di basket USA contro Francia spettacolo e stranamente hanno vinto gli Stati Uniti non me l'aspettavo è stato bello guardarla insieme agli altri americani l'ho fatto praticamente apposta cioè sì seguo il basket così mi piace anche vedere queste partite importanti ma l'atmosfera è stata bellissima è come proprio in Italia con il calcio nessuno stava lavorando l'ho vista in hotel stavano tutti davanti alla televisione in reception c'erano solo due ragazze lavano tipo a cannate lì tipo sì vai lavorate loro stavano tutti lì con le birre a vedersi la partita è stato un bel momento va bene ragazzi ci vediamo in un prossimo video sicuramente non più su una Model 3 Performance questo è l'ultimo video mi sta scendendo la lacrima una lacrima sul viso perché oggi è l'ultimo giorno che avrò questa ragazzetta con me si cambia registro quest'altra settimana avremo un nuovo mezzo chi lo sa lo scopriremo solo cliccando sul tasto iscriviti e mettendo like al video maledetti che non vi iscrivete al canale però state lì a spizzare i video eh io vi vedo che state tipo lì seduti con la copertina con il condizionatore a 16 gradi a spararvi i video senza mettere like e senza iscrivervi al canale va bene ci vediamo ragazzi in un prossimo video ciao ciao